Buonasera a tutti e benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Oggi ancora qua per parlare di tennis, oggi un po' un video recap delle ultime giornate di quello che è successo in queste ultime giornate nel mondo tennistico. Ragazzi, negli ultimi giorni sono usciti video magari un po' diversi dal solito, nei quali parliamo di altri argomenti in altro modo. Spero che li abbiate ugualmente apprezzati, che lo scusa per il doppio errore, assolutamente inaccettabili. Quasi, ma con un altro discorso. Io vi invito comunque sia di iscrivervi al canale, siamo a 406 iscritti, cerchiamo di arrivare a 450 entro la fine di febbraio e almeno a 500 entro la fine di marzo. Quindi continuate ad iscrivervi, io ci tengo nuovamente a ringraziarvi per il raggiungimento di 400 iscritti, è un traguardo che per me vale moltissimo, un numero dietro al quale ci sta tanto supporto da parte vostra, un po' di lavoro da parte mia. Quindi, secondo me, il tutto è molto bello e positivo, sicuramente. Dopodiché, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, facendomi sapere la vostra riguardo al video di oggi e a condividere il video a più persone possibili. Allora ragazzi, siamo pronti per partire con il video di oggi. Allora, nel video di oggi andremo a commentare un po' tutti i risultati delle partite negli ultimi giorni, cosa che non aveva fatto negli ultimi giorni, quindi mi sembra corretto andare a parlarne. Proprio quest'oggi vi avevo parlato dei risultati di Musetti, vi avevo parlato dei risultati del 29, magari, scusatemi, del 19. Cercherò di parlare un po' più lento e in modo un po' più chiaro perché mi sembra corretto, visto che mi è stato anche evidenziato. Quindi, mi sembra corretto parlare dei risultati di quest'oggi, allora, in generale, ovviamente. In realtà, oggi stanno ancora giocando, risultati più interessanti, oggi si sono giocate le partite della TP500 di Rio de Janeiro, torneo che è stato anche posticipato a causa pioggia, torneo nel quale le partite di oggi sono state posticipate a causa pioggia. Abbiamo Garin che batte Carbaglia e Sbaenaf, ma anche batte Jari. A sorpresa, mi avviso, vista la grande settimana che ha avuto Jari nel 2.50 di Buenos Aires. Ne abbiamo parlato della situazione Alcaraz con Monteiro, essenzialmente hanno giocato due game. Carlitos ha avuto questo infortunio che gli ha proibito la possibilità di giocare, non gli ha dato la chance di giocare. Per fortuna, ragazzi, per notizie anche dell'ultimo momento, tramite su Instagram e credo tramite, in generale, i suoi social, Alcaraz annuncia che starà fuori solo qualche giorno e che rientrerà per Las Vegas e che rientrerà per Niawets. Uno di voi qua sotto nei commenti, Mauro forse ti chiami, mi dispiace, ma non li vado a ricordare, non tanto perché non riesci a ricordarmi, ma perché semplicemente non ci faccio molto caso, visto che io in realtà rispondo ai miei commenti solo su YouTube Studio, quindi manco mi esce l'intene dell'utente che mi commenta. Un altro discorso, comunque sia, stavo dicendo, proprio tu mi schiavissi che il rischio che Alcaraz non giocasse Niawets, insomma che era una probabilità, una possibilità che accadesse, alla fine non succederà almeno a quanto pari. L'esibizione con Raffa e Natale il 3 marzo ci sarà, per fortuna, visto che l'anno scorso non c'è stata, sarebbe stato tremendo se non ci fosse stata nemmeno quest'anno, quindi si avessero anche Raffa meglio del previsto, Navone batte Coria, Serondolo, Ramos, Vino, Lassoggi, Giocano, Fils, Fonseca, Munar, Sebotwild e poi Lajovic, Gere. Poi 2,50 di Doha, ma ci sappiamo degli italiani, vabbè parleremo dei risultati degli italiani, perché ce ne stanno dei risultati da commentare, in particolar modo quello di Jasmine Paolini, che stamattina si è imposta su Jasmine Sacchari, su Maria Sacchari, buonanotte, buonanotte e sogni d'oro, allora, poi abbiamo 2,50 di Doha, oggi si stanno giocando credo gli ottavi di finale, si stanno concludendo gli ottavi di finale, allora ragazzi, Murray perde da, anzi no, partiamo dall'inizio, Marozan, Kaschanov, batte, vince Kaschanov, Rusovorio Connell, vince Rusovori, Bublik, Fusovic, vince Bublik, che conferma il suo buon periodo di forma, l'ennesima rimonta di Alexander Bublik dell'ultimo periodo, Murray perde da Manchik, beh ragazzi, Murray ha vinto una partita, ma la situazione di Murray è quella che, non ci vuoi fare un video per andare a parlarne, perché molto semplicemente è un giocatore a fine carriera, come lo è Gasché, che sì, oggi ha perso da Rubliov, ma in generale, prima volta fuori da Torten in 20 stagioni quasi, perso oggi un'ora, insomma, non c'è stata assolutamente partita, non ha dato l'idea di poter essere a livello di Rubliov. Proprio in rebatte Grenier, Umbert batte Kotov, Rubliov batte Gasché 2-7 a 0, e Zhang sta vincendo contro Monfilz, 2-7 a 0, 1-7 a 0, scusatemi, non 2-7 a 0, perché avrebbe già vinto, e 3-4 per Monfilz, servizio Zhang, senza break nel secondo parziale. 2-5 di Los Cabos, ragazzi, oggi, anzi, domani, per noi in Italia, ma oggi per i messicani, esotirà Alexander Zverev, domani anche per i messicani, domani sia per l'Italia sia per il Messico, credo, esotirà Alexander Zverev, che giocherà, molto interessante il suo esordio, vedo che Zverev sia assolutamente favorito del 2-5 di Los Cabos, dunque sia Thompson batte Scobedo, Ishiketa batte Kezmanovic, Borges batte Koffer. Il nostro Flavio Cobolli perde malissimo, per usare un eufemismo, da Nishioca 6-1-6-0, insomma, questa è una sconfitta che così rotonda, senz'altro, non ci voleva, e che non ci aspettavamo, perché io credo che non ci aspettavamo che Cobolli vincesse un solo game, un misero game in 13, game contro Nishioca, è un gran peccato sicuramente per dare in questo modo, però Flavio imparerà da questa esperienza, è migliorato molto sui cementi, considerando che ha giocato un grandissimo Australian Open, non dimentichiamoci che Cobolli chiede che abbia vinto la sua partita a livello slam allo Australian Open, quindi un grande risultato là per lui, vediamo come progredire sul cemento, ma quello di oggi è senza altro una batosta molto molto grave, ha vinto un solo game al servizio, per il resto non ha avuto alcun tipo di chance di vincere la partita, si riprenderà, Nava batte Schwarzman, sanno che Schwarzman non giochi su terra, sarà che, perché questo è un 250 che su terra è un 500, Ciron batte Daniel, Vukic batte Pacheco. Allora, parliamo dei risultati che ci interessano di più, Jasmine Paolini batte Maria Sacchari per 6-4-6-2, ragazzi, grandissimo successo della tennis italiana che conferma il suo grande inizio di 2024, conferma questo grande inizio di 2024 perché oltre a grande Australian Open adesso arriva anche il grande, il grande torneo di Dubai, perché anche se dovesse perdere da Ribagina, che è probabile, visto che comunque sia, lei è una molto forte, anche se, diciamo, ci abbiamo sperato che con Frec, Ribagina potesse perdere, perché là si sarebbe creato un buco in quella parte di tabellone, sì, magari dei terzi di sei più forti ce l'hanno comunque, però comunque sia, sicuramente il tabellone si sarebbe semplificato per Jasmine Paolini, però non ci interessa, comunque sia, sì, ci interessa, però, quarti di finale per Paolini, grandissimo risultato dopo gli ottavi di finale in un torneo dello Slam, adesso arriva anche il quarto di finale in questo VTA 1000, quindi grandissimo risultato per Paolini che a fronte a Ribagina, ha battuto a Dadmaia, ragazzi Paolini in questo momento quindi non ha avuto vita semplice, Dadmaia è numero 14 al mondo, una giocatrice tutt'altro che scarsa, ha battuto a Dadmaia in piena rimonta vincendo gli ultimi 10 game della partita, ha battuto Fernandes, finalista Slam, mica male, insomma non è stato un successo semplice, partendo anche sotto di un break, due volte, poi mi batte Maria Saccarri, che è stata semifinalista Slam e che è numero 8 del seeding, undicesima al mondo, al momento ancora meglio, insomma se battesse Ribagina sarebbe proprio la Voteosi, cosa molto difficile, ma mai dire mai, insomma bisogna sempre sperarci, bisogna sempre crederci, magari sì, è un'illusione questa, ma crederci ragazzi e sognare gratis, quindi secondo me è corretto farlo. Vrondruso va a battere Samsonova, 2-7 a 0, 6-2-6-2, Ostapenko viene battuta da Kalinskaya, che vince 6-4-7-5, poi Ribagina batte Frec per 2-7 a 1, 7-6-3-6-6-4, facendo fatica, molta fatica, a differenza della sua rivale Igas Biontek, ma non a differenza invece di Kokogoff, che anche a sua volta ha dovuto faticare, Kristea batte Vekic, con lei che ha eliminato Arina Zabalenka, che è stromesso la testa di sede numero 2 del torneo, e la giocatrice più in forma del 2024, poi Kokogoff batte Pliskova per 2-6-6-4-6-3, la partita sembrava essersi messa male nel primo parziale, bravissima la tenista statunitense a rimontare, Igas Biontek batte con facilità svitolina 6-1-6-4, e conferma la sua posizione da favorita per agilicarsi questo Masters 1000, dopo abbiamo, parliamo anche un attimo delle partite di domani, domani abbiamo gli ottavi di finale del torneo di Rio de Janeiro, almeno alcuni sicuramente, alcune partite dovranno ancora programmare, visto che è considerato che devono ancora finire di giocare alcuni giocatori oggi, Zverev affronterà Nishioca, come vi avevo detto, insomma sarebbe stato bello affrontare Zverev, che secondo me è un grandissimo giocatore, un grandissimo atleta in generale, dopo di questo abbiamo il VT1000, torno nel quale si giocheranno i quarti di finale domani, quindi mi raccomando, domani parleremo dei quarti di finale, domani parleremo della partita di Paolini, Vondroso va a Caristea, primo quarto di finale, Paolini e Ripagina, altro quarto di finale, secondo quarto di finale, vi sto parlando in ordine cronologico, Shwiontek, Zeng e poi Kokogov, Kalinskaya. Ragazzi, noi ci vediamo a questo punto domani, ma si vede... con un nuovo video, grazie a tutti del supporto ragazzi, 406 iscritti, c'è chi non è breve a 450 alla fine di febbraio, noi ci si vede domani con un nuovo video, da me è tutto per oggi, ciao!